Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stasera comincerà il nuovo turno di Champions League che terminerà poi domani con altre due partite. Siamo ormai ai quarti di finale, tutto è in ballo, tutte quante hanno le possibilità di giocarsi le proprie carte, ma vi vado a dare i consigli per quel che riguarda le schedine. Innanzitutto vi ricordo di andare a vedere il video di ieri, il Point of Week, mi raccomando, che ci tengo molto e partiamo con i consigli per le schedine. Qua non vi darò, come per il campionato, una quota facile, difficile, il marcatore risultato esatto, ma semplicemente una quota, basandomi su quanto appunto è alta, per cercare di farvi vincere qualcosa. Ecco, nel senso è chiaro che uno potrebbe andare anche su quote più basse e più semplici, però a quel punto la schedina non avrebbe praticamente valore. Vi consiglio di giocare ovviamente tutte e quattro insieme e quindi partiamo subito. Partiamo da Tottenham contro City. Ragazzi, io l'anno scorso avevo fatto un discorso sul City. Il City anche l'anno scorso è una squadra che dominava, così come sta facendo quest'anno, sta giocando molto molto bene, l'ha dimostrato anche i gol fatti contro lo Schalke. Però io sono dell'idea che l'unica squadra, le uniche squadre che possono buttare fuori il City sono delle altre squadre inglesi, perché sono squadre che conoscono bene il City come gioca, conoscono i punti deboli, sicuramente più di un'italiana, più di una spagnola. L'anno scorso ho avuto ragione con il Liverpool, quest'anno credo che avrò ragione con il Tottenham. Quindi di conseguenza io vi vado a consigliarlo 1x, che ha un'ottima quota perché è quotata 1,83, quindi considerando che ha una doppia chance e tanta roba, credo che il Tottenham almeno in casa giocherà la sua partita, farà vedere bene le sue qualità. Poi se il City da loro, cioè il City in casa, riuscirà a ribaltare il risultato, tanto di cappello. Però credo sinceramente che il Tottenham proverà a vincere e sarà molto vicino a farlo se non lo farà, se non riuscirà a farlo. Cioè vabbè dai ragazzi, o vince o pareggia il Tottenham. Di conseguenza 1,83, 1x. Mentre invece passiamo a Liverpool contro Porto. Poi vi consiglio l'uno handicap, l'uno anche qui ve lo potrei consigliare tranquillamente, ma è quotata pochissimo e non ne va secondo me la pena. L'uno handicap quindi che vincerà con almeno due gol di scarto, è quotata 1,73, è una quota un po' più alta, secondo me è fattibile, nel senso che il Liverpool in casa è molto più forte del Porto, poi magari laggiù ci sta che faccia un po' più fatica, però in casa credo che non abbia problemi e di conseguenza vi vado a consigliare appunto l'uno handicap a 1,73. Passiamo ad Ajax contro Juventus. Qui ho visto che anche la Juventus è quotata molto, è quotata più di due. Non me la sento di consigliarvi la Juve, anche perché le notizie dell'ultima ora, delle ultime ore, dicono che Chiellini non ci sarà. Comunque in qualsiasi caso vi consiglio il gol, della squadra che secondo me entrambe cercheranno di segnare e troveranno la via del gol, perché l'Ajax l'abbiamo visto che ha segnato veramente con chiunque, con il Real, con il Bayern, ha fatto penare tutte e farà penare anche la Juventus sicuramente. Però ecco, credo che possano entrambe trovare la via del gol. È quotata 1,77, anche qui è una buona quota, e quindi io ve la vado a consigliare. Infine terminiamo con Manchester United contro Barcellona. Qua vi consiglio l'over 2,5, è quotata 1,65, leggermente meno delle altre. Però c'è da dire che sinceramente anche qua il Manchester United secondo me potrebbe fare una sorpresina al Barcellona. Nel senso non è favorita, chiaramente, il Barcellona è stra-favorita, però comunque ragazzi il Manchester ha buttato fuori, il Paris Saint-Germain in quel modo. Non lo so, secondo me può essere una insidia per il Barcellona, che magari potrebbe prendere anche un po' sotto gamba questa partita, in quanto è molto più forte questo turno di quarti, perché è molto più forte dello United. Però sinceramente ci sta che il Manchester faccia la sorpresina. Io vi consiglio l'over 2,5, non me la sento di consigliarvi la vittoria di uno o dell'altro. 1,65 non è male, e di conseguenza ragazzi, come detto, potevo darvi anche quote più facili e più scontate, però sinceramente per cercare di alzarvela un po', preferisco rischiare un po' di più e insomma vedere un po' cosa ne viene fuori. Detto questo ragazzi, il video è finito, fra poco uscirà anche il video sull'andamento della giornata del fantacalcio, quindi mi raccomando, sempre aggiornate, vi invito a mettere mi piace se volete questa serie continua per tutta la stagione di Champions, vi invito a scrivermi nei commenti il lavoro, le vostre quote, quelle che volete giocare, secondo voi sono le più consigliate, quelle sconsigliate magari. Vi invito infine a riscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.